e ragazzi che dite lo facciamo a pezzi ho sentito dei sì certo poi in caso problematico sono cavoli miei ok dai mi voglio avventurare allo smembraggio all'autopsia del seghetto alternativo parkside vediamo un poco cosa salta fuori smontiamo tutto quello che c'è da smontare tutto quello che è nelle mie facoltà vediamo com'è togliamo la guida a sotto sono queste due tine a brugola e andiamo a svitare con la stessa chiave che ci danno in dotazione mi pare che non ci siano rondelle ok c'è questa piastrina che si contrappone allora questa come vedete semplice semplice in ordine ciò che c'è da smontare perché altrimenti poi non troviamo più nulla via fase 2 osserviamo un pochino togliamo questo ce la facciamo ok questa è rimossa qui non ci sono altre viti qua c'è un fermo che serve che si rimuove solo se bisogna rimuovere il sistema di aggancio e sgancio rapido che abbiamo qui abbiamo un po di viti a croce dobbiamo trovare la misura idonea la misura corretta per lo smontaggio proviamo diversi bit questo sembra fare il caso nostro avvitatore ci occorre una prolunga no iniziamo uno due semplicemente le viti qua sembrano essere tutte quante nella stessa misura quindi il compito dovrebbe risultare un poco più facile ecco questa va più in profondità quindi ci devo andare con un altro tipo di punta più lunga ok ok via questa togliamo anche quest'altra meglio raggrupparle tutte quante dove non c'è la possibilità di perderle ora le viti del maniglione ci siamo quasi quello che non mi piace di questi avvitatori che non sono progressivi e poi ce ne sono gli ultimi due uno e due che sono in profondità quindi ci devono andare così ok confermo che tutte le chiavi sono nella stessa tutte le viti scusate sono nella stessa misura ora ora perché non mi si apre forse c'è qualche vite qua sotto non penso ma vediamo un po' o mi sono dimenticato qualche vite no le viti ci sono tutte ok ci dobbiamo solo andare un poco con le buone si si bisogna semplicemente fare un attimo leva da qualche parte per andare ad aprire bene tutto allora la prima cosa che si fa togliere è questo il connettore dell'aspiratore allora allora piano 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 perché la bomba potrebbe esplodere qui cosa abbiamo abbiamo una connessione con quello che è la luce ok allora vediamo subito questa è la mezza scocca qua c'è un po' di grasso non troppo perché il grasso costa notiamo qualcosa di particolare no fondamentalmente no tutto il meccanismo è riposto dall'altra parte quindi andiamo laddove maggiormente ci interessa questo è il laser allora subito subito ok prima cosa che voglio mettiamo fuoco per bene avviciniamo un poco mettiamo nuovamente fuoco la prima cosa che voglio che si vada a notare è il discorso del laser ok questa è la lucetta laser dietro alla lucetta laser c'è una molla e nella parte opposta nella parte della scocca contrapposta c'è questa vitina lo vedete qua questa è la vite di regolazione del laser come funziona la regolazione da una parte c'è una molla che spinge dall'altra parte si contrappone una vite che spinge la molla fino a far collimare nella giusta direzione questo faretto laser passatemi il termine non mi mangiate vivo ok quindi così funziona la regolazione della molla qua c'è la lucetta di servizio che illumina la zona di lavoro invece questo è l'asse principale avrei voluto un un fazzettino per pulirmi qua c'è l'asse principale sul quale si vanno a innestare le lame vedete cosa come funziona tutto ciò allora 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 dovremmo metterlo in movimento in azione qua c'è il potenziometro questo che dovrebbe essere praticamente un dimmer un dimmer che si regola in base alla regolazione del dimmer da più o meno giri e potenza qui abbiamo l'interruttore della nostra luce laser vedete e sotto c'è per l'appunto l'interruttore montato in una schedina dopodiché è tutta parte meccanica questa piastrina qua sotto è unicamente una piastrina che serve per avvitare la base e ha il dentino per bloccare la ghiera della base la corona della base nell'angolazione desiderata andiamo a riporre al suo posto questo è il selettore ecco perfetto questo è interessante questo qui corrisponde alla levetta che c'è di sotto di dietro l'altra parte che permette di aprire o chiudere il condotto di aspirazione quando ci si collega a questo tubicino qua dietro il nostro aspirapolvere ok? ora sto vedendo che è una mezza presa per i fondelli perché intanto perché si restringe cioè il diametro del tubo da che è un quanto sarà 4 cm di diametro più o meno si restringe brutalmente a questo cioè c'è una sproporzione immensa non è nemmeno troppo modificabile voglio dire magari prendendo una fresa si andava ad allargare questo buco per avere un'aspirazione superiore ma non non serve in realtà perché poi ecco il non senso qual è? che in fase di aspirazione noi abbiamo un'aspirazione enorme che si riduce a un forellino piccolo piccolo cioè questa piccola feritoia poi qua abbiamo un ambiente molto molto grande rispetto a quello che è la feritoia di aspirazione che poi esce dovendo andare ad aspirare ciò che sta fuori ok? quindi se ci fate caso il percorso dell'aspirazione cioè qua c'è il tubo passa da qua dentro con il comando aperto passa da qui qua passa attraverso questa strettoia miserabile dopo di che come va qui così questa strettoia miserabile dovrebbe assicurare un'aspirazione a mio avviso ridicola del truscelo che si produce in questa zona qua sotto cioè ci sono qualcosa come perlomeno 5-6 7 centimetri di distanza tra il truscelo e il forellino d'aspirazione che non servono assolutamente a nulla quindi evitate di farvi pugnette mentali pensando a mettere l'aspiratore perché questo non serve a nulla è evidente lo chiediamo proprio dalle dimensioni di questo condotto di aspirazione inutile tutt'al più sarebbe forse consigliabile attaccarci un compressore per spruzzare aria e pulire la nostra zona di lavoro e non un aspiratore ok questo l'abbiamo potuto evincere da questa piccola autopsia che stiamo eseguendo il comando di apertura che sta dietro per quanto riguarda il condotto di aspirazione fa muovere questa questa vaschettina capovolta che altro non fa se non chiudere la zona di aspirazione ma in realtà fa il danno della bomba atomica in che senso quando chiude la zona di aspirazione lascia aperto il forellino che c'è qua sotto questa feritoia permettendo alle polveri ai trucioli di entrare in zona motore elettrico ok quindi forse sarebbe meglio con una pistola con colla a caldo andare a tappare questo forellino questa feritoia dal quale teoricamente bisognerebbe aspirare trucioli e far finta che non sia mai esistita così perlomeno i trucioli non vi entrano in questa zona perché se entrano in questa zona dove si produce dove si produce calore e scintille per via del spazzole del motore elettrico qualche truciolo potrebbe diventare carboncino qua dentro e quindi vi va a fregare prima del tempo tutto il motore elettrico questo se potete tappatelo ok consiglio spassionato che vi do dopodiché cerchiamo di capire questo è ovviamente l'interruttore con il suo sistema di blocco il sistema di blocco praticamente è un piolino che se premuto va a lasciare bloccato l'interruttore se si stacca l'interruttore scende nuovamente ok questo è tutto il sistema interruttore cosiddetto vediamo se ne è uno qua da qualche parte già smontrato mi pare di sì questo è un interruttore ora ve lo faccio vedere l'ho comprato su su ebay è molto simile per quanto riguarda le connessioni e il funzionamento vedete qua ci sono due connettori sopra e due sotto così come in questo che ho comprato su ebay per un progetto che ancora devo portare a termine vi do un'idea dei prezzi questo qua mi pare che l'ho pagato attorno a 1,50 euro quindi se mai vi si dovesse rompere l'interruttore non andate in paranoia queste sono cosine che se avete un minimo di praticità di manualità le riparate con niente questo dicevo è un dimmer e occhio a non fare entrare il truscio nel motore perché se no sono cavoli acidi andare a smontare il motore è ancora più paranoico di tutto il resto qui ora abbiamo tutta la parte meccanica parte meccanica che in cosa consiste allora vediamo un po' azione pendolare vedete qui abbiamo una molletta una molla che è assicurata l'asse principale della sega l'asse che fa su e giù con l'azione pendolare questa molla fa sì che l'albero possa fare questo movimento ok qui ora metto cerco di mettere il settore con azione pendolare e niente mi piacerebbe attivare il seghetto aperto però al momento prima di attivarlo devo salvaguardare la mia la mia incolumità quindi vado a prendere gli occhiali protettivi e attiverò il seghetto aperto temo che tutto possa schizzare da ogni lato vediamo un attimino cosa succede datemi un secondo che mi metto gli occhialetti bene occhialetti recuperati la prudenza non è mai troppa forse dovrei mettere anche un paio di guanti comunque il dimmer l'ho messo a velocità 1 quindi la velocità minima andiamo a collegare e subito si accende il laser lo spegniamo lo accendiamo si accende anche la lucetta di servizio speriamo bene vediamo un po' allora un po' rumoroso lo è perché non va perché non va allora magari non va perché vuole il suo carterino contrapposto mettiamolo a velocità 2 mettiamolo a velocità 3 allora sicuramente non funziona perché i componenti meccanici devono essere bloccati riproviamo un po' Grazie. E allora ragazzi stacco l'elettricità e facciamo qualche considerazione. E allora ragazzi stacco l'elettricità e facciamo qualche considerazione sul funzionamento. Io in questo momento ho impostato il selettore del pendolo A3. Voi vedevate questa placca metallica che andava su e giù, scorreva su e giù e andava a spingere il binario, questa rotella, che poi è quella che coadiuva l'asse principale nel discorso pendolare. Ecco, il movimento pendolare è dato proprio da questo, da questa parte metallica che va a spingere proprio qui questo gruppo, provocando il movimento pendolare. Per quanto invece riguarda il movimento della sega, quindi questo qui su e giù, questo movimento è dato da questo ingranaggio grande, sul quale è montato un perno che va a far scorrere tutto l'alberino con un sistema contrapposto di perni. E quindi è un sistema abbastanza semplice. Una volta visto aperto, chiaramente è un sistema incognito e curioso nel momento in cui tutto quanto l'apparato è chiuso. Devo capire soltanto perché con la velocità A3 non aumenta di velocità, probabilmente come ho già detto è perché le due parti, le due conchiglie devono pressionare gli ingranaggi affinché gli allineamenti siano corretti, quindi probabilmente il motore elettrico trova un attrito non regolare eccessivo nel far scorrere tutto quanto l'ingranaggio e quindi non ha abbastanza forza per far muovere l'alberino così come dovrebbe. Però meglio così perché la velocità dell'alberino non sarebbe sostenibile con l'utensile aperto. In ogni caso non c'è grasso da questa parte, cioè il grasso è pochino, se vi capita di aprirlo metteteci un po' già che ci siete. Ok? Proprio su questa ruota dentata il grasso è stato messo tutto quanto qua dietro, da questa parte scarseggia. Oramai già questi signori della Parkside ci hanno abituato a lesinare sul grasso, perlomeno loro lesinano sul grasso, qualche miglioria si potrebbe fare. Ora andiamo a richiudere tutto quanto il nostro utensile facendo ben caso al fatto che tutto ciò che è contenuto al suo interno deve essere ben allineato. Ecco io già mi stavo dimenticando questo qua, il tubicino dell'aspiratore. Dice ma hai detto che non lo vuoi utilizzare? Sì vabbè però per completezza glielo lascio e poi andrò a tappare questa feritoia, questa qua che secondo me fa più danno che altro. Ok? Bene. A questo punto visto che ci siamo andiamo a chiuderlo insieme tutto quanto e poi vediamo se una volta chiuso il seghetto ha la stessa reticenza nel funzionare rispetto a quando è aperto. Ok? 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 7 8 8 8 9 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 11 11 12 13 13 14 14 14 15 15 15 18 18 19 19 20 20 Ok, le viti le abbiamo messe tutte, scusate sempre per la tosse, vorrei essere il primo a non averla. Ok, già ci siamo, uno, due, tre, quattro, ecco, una cosa che non mi piace in questi avvitatori è che non ci sia la frizione regolabile, cioè vanno ad avvitare a quanto più non posso con il rischio di rovinare anche la vite, quindi quando si inizia a sentire la vite che va un pochino duro tocca mollare, ok? Bene, andiamo a vedere se ora con il settore 1 funziona come funziona, cosa ci dice questa sega. Io nel caso metto gli occhialetti di protezione, questi sempre, qua è ben chiuso, sì, ok, proviamo. Ecco vedete come vi dicevo funziona bene per aumento della velocità, dov'è? il blocco automatico funziona dall'altra parte pure, ok, non c'è altro, il pendolo stesso discorso, vedete che si muove, no, non si muove perché manca la lama, dovrei mettere la lama per poter apprezzare il movimento, che faccio? Ti la metto la lama, non ce l'ho qua, no, non ce l'ho qua a portata di mano, in ogni caso, nessun problema, come avete visto lo smontaggio così delle scocche è qualcosa di molto molto facile, ora andrò a riporre nuovamente la piastrina di sotto, la protezione può tornare a fare il suo sporco lavoro di tagli pendolari e non pendolari, ok amici? Spero che il video vi torni utile, è molto semplice, molto, non ci sono rischi nell'aprire uno strumento del genere, ovviamente fatelo con la corrente staccata e vedrete che non avete nessun tipo di problema, se la macchina vi dovesse dare qualche problema dopo la garanzia avete comunque la possibilità di trovare ricambi proprio di terze parti, semplicemente cercando su internet considerate che su tutti i ricambi si trovano dei codici, questi codici sono utilissimi da inserire sul Google per cercare ricambi, quindi vedete voi, ok? Amici, con questo è tutto, vi invito ad iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella e ci becchiamo più in là, ciao e alla prossima, state in campana!